Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play Ita Oggi ho deciso di riprendere in mano Project Zomboid dopo due anni, quasi due anni dall'ultimo video E... intendiamo Perché? Che cosa voglio fare? Beh, l'ultimo video che vi avevo fatto, a giugno 2018, vi parlavo delle macchine Le macchine erano ancora in beta, adesso sono uscite Ma in realtà quello che voglio fare, un piccolo approfondimento sul gioco Faremo una missioncina, faremo un'avventura Ma la cosa importante è che questo gioco, secondo me, viene preso un pochino sotto gamba da tanta gente Perché si crede sia un... tanta gente, poi magari voi no, però Sembra, vai, luta, prendi, uccidi i zombie, uccidi i zombie In realtà non è così, perché ho scoperto, lo sapevo già, poi mi sono informato meglio Che con questo menu qui potete muovere la mobilia Quindi alzarla, riposizionarla, ruotarla, disassemblarla Ovviamente in questo caso il frigorifero Per disassemblarlo mi dice che mi serve una torcia al propano e una maschera da saldatore Perché va dissaldato Però cose come questo armadietto Quindi mi basterebbe un martello O un coltello, insomma dipende da che cosa Io sono in questa zona, poi prima della missione vi farò vedere dove mi trovo E sono abbastanza fuori città, quindi non ci saranno eccessivi problemi Sono fuori città, in questa casa, due piani, dove sopravo le stanze Dove adesso magari andremo anche a dormire Ho avuto una piccola disavventura perché sono rimasto ferito Mi hanno morso e mi sono anche infettato Ovviamente non infettato col virus dello zombie, ma infettata proprio la ferita Ho trovato fortunatamente un kit di pronto soccorso che ho aperto Dentro c'erano delle bende adesive Quindi oltre al poter craftare Perché qua c'è un mega menu Con tutto quello che possiamo fare Possiamo costruire Polvere da sparo Possiamo costruire un sacco di cose E studiando Andremo a sbloccare nuove ricette E soprattutto Andremo ad aumentare le nostre abilità Che qua aumentano man mano Noi leggiamo E man mano noi In pratica noi possiamo leggere un libro E poi tutto quello che facciamo Che ha a che fare col pronto soccorso Viene amplificato E anche qui la meccanica Il mio personaggio è un meccanico Perché ha questa abilità Non è ancora tradotta Non so perché Tutta la parte sulle macchine Insomma però io sono un meccanico Quindi posso Sono allora Guido veloce Vedo di notte E sono bravo a riparare le macchine Al momento voglio capire Che cavolo mi sta succedendo Perché sono Ho un carico pesante Rischio anche danni alla schiena Ma non capisco che cavolo ho addosso Di così pesante Poi magari svuotiamo qualcosa Dato che qui comunque c'è La nostra Nostra casa Ho trovato già Ho fatto una gita Alla Stazione di polizia Quindi ho recuperato Un po' di Un po' di roba Un fucile a pompa E una pistola L'orologio digitale Che vedete qua in alto Ho inserito una mod Nel gioco per le coordinate In modo che sia tutto molto più Semplice Prendo lo straccio sporco Lo metto lì E sono abbastanza carico Comunque vabbè Dormo Così Dormiamo un po' Passa il giorno Arriva Passa la notte Scusate Arriva il giorno Ci riposiamo E siamo abbastanza Terrorizzato Siamo depressi Siamo annoiati E siamo anche malati E piove Un'altra cosa che ho scoperto Oltretutto Adesso voglio capire Ah sono malato Sono ferito E non riesco a trasportare Un cavolo di oggetti Facciatura sporca Quindi in questo caso Rimuoviamo la venda E andiamo a ricurarci nuovamente Ovviamente ho chiuso Come la passi vuole Tutte le tende O quasi E ho spento quasi Tutte le luci Una cosa che ho notato Adesso poi disinfetto ancora Per sicurezza Una figata che ho letto Poi ovviamente Da fare Un altro discorso Se troviamo Un martello da demolizione Ok Siamo Siamo a posto adesso Però non possiamo Trasportare una mazza E non so perché Comunque vabbè Siamo abbastanza Siamo feriti E vabbè Abbiamo un danno grave Però Vabbè Non so perché Potremmo anche morire Stata facendo Ma in realtà Non capisco perché Perché Dovremmo essere Messe abbastanza bene Se noi prendiamo un martello E demoliamo Da qui Potremmo costruire Una corda Di Con un lenzuolo E quindi impedire A qualsiasi zombie Di salire Una sorta di sicurezza Mi scuso anche Per la voce Perché Sono un po' Raffreddato Quindi Allora Qua mi dà danno grave Ma non capisco perché Comunque sono Le undici Piove La figata Vedete Io ho messo Questa pentola qui Questa sorta di Tegame Casservuola Praticamente Piove E io L'ho messa lì Per raccogliere la pioggia Ovviamente Adesso mi dice Acqua contaminata Quindi andrà pulita Ora Voglio fare una missione Vi illustrerò subito La missione E poi partiamo Allora Come abbiamo visto Noi ci troviamo Esattamente qui Questa è la casa Ci troviamo in questa zona qui Quello che vorrei fare io Così giusto per Dopo avervi fatto vedere L'inizio del gioco Diciamo Non che Non l'avete già visto Insomma Volevo registrare Dopo anni Una Un'avventura Quindi Quello che faremo è Proseguire Lungo la staccionata Arrivare qui E qui sembra esserci Una sorta di magazzino Magazzino che mi ricorda Quello che c'è qui Me lo definiscono Come un double warehouse Quindi il doppio magazzino In quel caso Ce n'è uno solo Quindi andiamo lì Poi ho sempre qualche problemino A ritrovare Dovero Siamo qui Ok Due campi Due campi Quindi andiamo dritti Arriviamo qua Vediamo la situazione La situation Se ci sono Zombies Dopodiché Arriviamo in fondo Alla strada Proseguiamo In giù Andiamo Sempre a destra Perché Giriamo a destra Arriviamo in statale Quindi sulla strada grossa Prendiamo Non la prima Ma la seconda A destra E arriviamo Alla gas station Dove Potremmo cercare Qualcosa Per la macchina Per fare magari benzina E rifornirci Quindi Proviamo e andiamo Ok Allora Siamo pronti a partire Ovviamente Quello che possiamo fare Tra l'altro E oltre al coltivare Che quello mi pare Ve l'avevo già detto In passato Possiamo anche andare a costruire Quindi potremmo Come abbiamo visto dalla mappa Completare la recensione intorno Creare la porta sicura Questo mi sono accorto Mi sono reso conto È un gioco veramente Hardcore Perché niente Ho mai visto niente Di così simulativo Di questo Ho trovato questo Fortunatamente Giocando a facile È comunque tosto Quindi giocatelo a facile Consiglio mio Quindi abbiamo detto Dobbiamo andare di qua Proseguire da iti evitando E che cacchio E non ho calcolato Che dalla mappa Ci sono tanti alberi Quindi dobbiamo andare Molto Su chi vive Avanzando di là Sperando di Non incappare In Eccessivi Alberi E Mannaggia La pupazza Niente Dobbiamo fare una piccola variazione Sul tema Perché dobbiamo andare di là Da qui Credo che qui ci sia Una Una parateria O qualcosa Quindi dovremmo riuscire Ad arrivarci abbastanza Agilmente Alla stradina E infatti Siamo arrivati È ok Allora Dobbiamo fare il meno rumore possibile L'auto è danneggiata Ma il baule Sta pieno di roba L'ho già riempito Con un sacco di roba Adesso scendo Vi faccio vedere Sto anche tra l'altro morendo E non so perché Danno molto grave E io Non so che dire Vedete che Qua apro No No Avevo tolto tutto Vabbè niente L'avevo messo in casa Probabilmente Non ho depositato niente Comunque Andiamo a questo magazzino Ci muoviamo veramente Molto piano Siamo messi male Ovviamente Se morite Morite Per sempre Quindi Devo fare molta attenzione Dovrei forse Andare un po' più sul sicuro Prendendo Impugnando la pistola Anziché L'amazza Faremo molto casino Tireremo zombie Però saremo molto più al sicuro Ora Senza andare a spoglierare Perché Senza andare scusate A morire Lo scopo di questo video Non è farvi una serie Magari in futuro Chi lo sa Ma Mostrarvi quello che si può fare Più che altro A che livello può raccontare una storia Questo gioco Qui abbiamo per esempio Semi Potete giocarlo in multiplayer Vedete Il picchetto Era una cosa richiesta Per un crafting Non mi ricordo che cosa era Un picchetto Si faceva Con Mi pare Lascia No Un kit Eccolo qua Un kit da campeggio 4 picchetti Un bastone robusto E un telo impermeabile Ci si fa una tenda Allora qua veramente c'è il mondo Assi e tutto Carbone Un altro picchetto Un sacco di intonaco Veramente Allora Per giocare a questo gioco Dovete essere Assolutamente appassionati di survival Anche da soli è giocabile Ovviamente se lo fate in multi La morte non è permanente Ma rinascete da un altro punto Quindi in multi può essere veramente figo Mentre Da soli ovviamente morite Ricominciate da capo Non so se con lo stesso mondo Quindi potete andare a rilutarvi Quello non lo so E se qualcuno di voi lo sa Fatemi sapere Ovviamente Perdete le abilità acquisite Quindi quello è Un prezzo da pagare Allora bisogna andare a destra Anche perché la ma Mamma mia Niente sto morendo Ma allora Non voglio Morirò probabilmente La partita finirà Però quello che voglio dirvi È che sono stato un Tamburo io Detto anche babbano Perché Non mi sono curato subito Infatti la ferita ha fatto in tempo Infettarsi È stato nelle prime zone di gioco Momenti di gioco in cui Non Non ci ho fatto troppo caso Dovete sempre tenerla aperta Questa finestra Sempre tenere sott'occhio Quello che succede Allora da qua no Quella dopo Stiamo andando A vedere Perché vedete che la benzina sta calando Quindi Dobbiamo fare molta attenzione A non farla finire Ok Eh c'è un bel po' di gente qua però Quindi dovremmo Cercare di capire O tornarci Con più discrezione Perché non muoiono Pena investiti Dovete proprio tirarli sotto Più volte Quindi bisogna fare proprio Una pulizia E qua vicino C'è anche E magari ci proviamo ad andare Una zona di Manutenzione auto Di qua Questa Che ha una porta aperta Quindi magari si può anche pensare Di Andare a dare un'occhiata Se ci sono delle Eh suona l'allarme Quindi tutti gli zombie Arriveranno qui Sicuramente E voglio dare un'occhiata Se c'è magari Cacciavite Che è importantissimo Una tannica di benzina Che è importantissima E poi mi guardo intorno E direi che La tannica di benzina Non so se è piena o vuota Direi che è vuota Quindi direi che Sarebbe anche il momento Di andarsene Non ho spento la macchina Perché così almeno Sono riuscito a Boh Quanta gente Però sta arrivando Tutta lì la gente Quindi potrei Approfittare Del casino Che abbiamo scatenato Io ho Un problema Sto morendo Quindi dovrei Mettermi bello calmo E tranquillo Vedete che La gente Non sta arrivando qua Sta andando di là Quindi noi ce ne stiamo Belli buoni La gente E' entrata anche qua Però La tannica di benzina Potrebbe essere Molto Interessante Ho trovato anche Un cacciavite Che è importante Per tutte le riparazioni Adesso io Vedo Dato che li ho tirati Di là Perché all'inizio Può sembrare Che il gioco Ce l'abbia Estremamente con voi Ma in realtà Non è vero Nel senso che Se fate attenzione Alle cose E lo giocate In modo realistico Prendi carburante Ok No No Vattene Vattene Mi hanno graffiato Salgo in macchina Ho preso qualcosina Di carburante Graffiato Bende 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 disinfetta Bottiglia Disinfettante Non sarà Eterna Sta cosa Però Ok lo sto facendo E poi Benda Adesiva Intanto stanno arrivando Le zombie Ma intanto La benda adesiva Me la metto Tra un secondo Sì siamo Siamo proprio Allora io ho usato appunto Come avete visto prima Una Una mappa online Perché senza È veramente Difficile Poi iniziate un pochino A prenderci la mano Quindi si inizia un pochino Si iniziano un pochino A capire È una mappa Fatta a mano Veramente bene Perché Ha logica Fuori città c'è il carcere Vicino c'è la stazione di polizia Insomma Fatta veramente bene Eccolo lì E sono morto Schiantato Come sto andando Scusi Male per Dio Niente Sono sopravvissuto Per un bel po' Vabbè Non era previsto di morire Ma in realtà Avevo già l'intenzione Di cominciare una partita Perché Perché Ho appreso Tante cose Poi se si fa Continuo Vedete Io ho iniziato da qua E questa è una zona Che conosco Poi Quando create il personaggio Potete andare avanti E andare a ricaricare Magari un profilo Io ho fatto il meccanico Appunto Quindi Guido veloce Ci vedo di notte Apprendista meccanico Insomma E cominciamo Con Con queste E poi si va E si comincia E se no Casuale Oppure si può andare A prendere Un profilo Già in automatico Quindi Abbiamo Siamo abili In alcune cose Che hanno a che fare Con la nostra Perfezione Di guardia di sicurezza Agente di polizia Ad esempio Quindi E sono tante cose Alla fine Che le rendono bello Niente La missione è andata male Ma in realtà Avevo già previsto La possibile morte Perché Diciamo Ho perso di vista Quella ferita lì E non so bene Che cosa mi è successo Probabilmente Ha preso anche Tanto freddo Scusate Tanta paura Nelle cose che ho fatto Ma La Il discorso è questo Zomboid è un gioco Forse il survival Più profondo Che io abbia mai visto E provato Non è per tutti Per la grafica Le meccaniche Magari un po' Leniose Ma sicuramente Ha da dare Più di tanti altri Survival Quindi per giocarci Dovete O avere amici Appassionati Appunto di Una cosa che può essere Un The Walking Dead O una cosa del genere Un posto apocalittico Se siete soli Dovete avere Gli stessi requisiti Sapendo però Che la modalità Giocatore singolo Adesso vi faccio vedere Allora La sopravvivenza Questa Un sacco di zombie Ma una cosa Proprio brutale Se giocate Invece questa Per il caso Facile Si muore comunque Avete visto che Gli zombie ci sono Quindi Ci sono comunque Si muore comunque Facilmente Però è una cosa Più sopportabile Questa è veramente Tosta Ma tosta Nel senso che Ce ne sono Dieci in ogni casa Una cosa del genere Ho fatto un server Anche per giocarci Con Mirko Di Gameplay Channel Per farci una live Con lui E il server Parte con questa modalità Ed è ingiocabile Infatti stiamo Ci stiamo adoperando Per risolvere il problema Ragazzi Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di questo approfondimento Su Project Zomboid E noi ci sentiamo Al prossimo video game play Alla prossima ragazzi E ciao ciao Grazie a tutti